Bitcoin è una valuta digitale basata sulla criptografia, cioè una criptovaluta. Non esiste come moneta di carta o metallo, ma va considerata invece come una successione di bit creati da un software open source. In informatica il termine inglese open source viene utilizzato per riferirsi ad un software di cui i detentori dei diritti rendono pubblico il codice sorgente, lavorando nel libero studio e permettendo a programmatori indipendenti di apportare modifiche ed estensioni. Se il software è open source vuol dire quindi che è verificabile da chiunque e che chiunque può a suo modo copiarlo per farci qualcosa che vada bene per lui o intervenire presso la comune di sviluppatori per suggerire migliorie e sistemare eventuali vulnerabilità. Un codice open source è per sua stessa natura un codice democratico. Sebbene tutto ciò sembri molto nebuloso, soprattutto per chi non si intende molto della materia, è bene sapere che non è indispensabile conoscere in realtà il funzionamento che c'è dietro a un software per poterlo utilizzare. Così come un'automobile, bitcoin è tecnicamente avanzato e complicato da capire, ma come tutte le cose anche questo sforzo è direttamente proporzionale del bello che si vuole raggiungere. Proprio come un'automobile anche per bitcoin non è necessario acquisire informazioni troppo tecniche per poterlo utilizzare efficacemente. Tutto inizia nel 2009 quando un tale, conosciuto solo tramite l'opcionodimo di Satoshi Nakamoto, pubblica il paper dal titolo Bitcoin, un sistema di monete elettronica peer-to-peer, dove illustra i concetti che implementa nei mezzi successivi per realizzare il codice Bitcoin. Ma chi è Satoshi Nakamoto? Se credi che Satoshi Nakamoto sia questo, ti sbagli di grosso. Il nome dell'uomo nella fotografia è Dorian S. Nakamoto, un settantenne giappone-ericano scambiato dal giornale Newsweek nel lontano 2014 come il vero Satoshi Nakamoto. Sebbene Dorian abbia sempre smentito la notizia e dichiarato più riprese che lui con Bitcoin non c'entrasse nulla. Smettite a quanto pare non sufficienti. L'umanità intera che cerca su internet Satoshi Nakamoto trova sempre quest'immagine. Quindi il povero Dorian Nakamoto è certamente un Nakamoto, ma non è quello che cerchiamo noi. Tant'è che è proprio il vero Satoshi Nakamoto correre in soccorso di Dorian, smentendo lo scopo del giornale Newsweek, ed in un breve post apparso sul P2P Foundation Page Ninge, afferma semplicemente «Non sono Dorian Nakamoto». Sebbene ancora nessuno sappia con certezza chi sia il creatore di Bitcoin, o se Satoshi Nakamoto sia anche il vero nome, il post di Ninge è degno di nota, perché è collegato allo stesso indirizzo email utilizzato nel post della P2P Foundation nel 2009. «Ho lavorato un sistema di denaro elettronico completamente peer-to-peer, ma ferma, senza terze parti fidate. Ma cosa vuole risolvere Satoshi Nakamoto? In pratica la domanda a cui Nakamoto vuole dare una risposta è «Si può costruire un sistema per fare transazioni elettroniche che facciano a meno della necessità di un intermediario, su cui porre la fiducia e che coinvolga solo i diretti interessati?» Grazie a Bitcoin, Nakamoto è riuscito a dare una risposta pienamente affermativa a questa domanda, oggettando le basi di quella che è diventata una vera e propria rivoluzione economica e sociale. Nakamoto continua C'è bisogno di un sistema di pagamento elettronico basato solo su prove criptografiche, permettendo di fatto ai diretti interessati di fare un pagamento senza avere bisogno di una terza parte fidata. La prova criptografica in realtà è un artificio matematico che serve per dimostrare che un dato non è stato manomesso e ha la particolarità di essere facilmente verificabile ed essere praticamente impossibile da falsificare. Ma la cosa importante dell'affermazione di Nakamoto è «I diretti interessati sono autonomi nel fare questa verifica, non c'è bisogno cioè di nessuno che garantisca alcunché». Nessuno che garantisca per loro, quindi non serve nemmeno una banca affinché le transazioni tra individui possono essere applicate e validate. Per iniziare, quindi, non serve una banca. Il Bitcoin nasce nel 2009, mettendo insieme varie idee già presenti a quel tempo. Già a metà degli anni Ottanta ci furono i primi esperimenti con i quali erano stati avviati test per creare le prime valute digitali e per dare vita a un vero e proprio processo di privacy del valore. David Chum, docente di informatica all'Università di Berkeley ed esperto di criptografia, nel 1985 aveva pubblicato un paper intitolato «Sicurezza senza identificazione, sistemi di transazione per rendere il grande fratello obsoleto», in cui discuteva la possibilità di creare una forma di denaro digitale che proteggesse la privacy dei cittadini. Fu iCash, il primo esperimento di valuta criptografica concepita proprio da David Chum, considerato un vero e proprio astro nascente degli imprenditori digitali dell'epoca, che attraverso l'azienda che aveva fondato nel 1990, DigiCash, aveva avviato un promettente sistema per micropagamenti. Ma appena nove anni più tardi, nel 1999, tutto il progetto fallisce, così come la prima vera sperimentazione di valuta digitale. Sebbene vi fu un fallimento del progetto per causa in parte indipendenti da fattori tecnologici, per sapere che, se anche ogni singola persona al mondo avesse usato iCash per le proprie transazioni, le banche avrebbero comunque, sempre, dovuto confermare ogni operazione fosse avvenuta su quella piattaforma. Ciò esclusi a priori che iCash sarebbe stato il progetto decentralizzato e libero che tutti stavano aspettando. Mentre iCash profonde verso un definitivo fallimento, negli stessi anni un tizio di nome Adam Beck, appassionato di criptografia, stava perfezionando un nuovo sistema di pagamento digitale, chiamato HashCash. HashCash, presentato nel 1997, sistemava uno dei problemi alla base dei progetti di denaro digitale, l'apparente impossibilità di creare un file digitale che non potesse venire copiato senza soste. E per risolvere questo problema Beck si affidò alla criptografia. Attraverso l'utilizzo di complicati elaborazioni matematiche che dovevano sfruttare il potere di calcolo dei computer, la cosiddetta proof of work, si assicurò che il conio della moneta venisse in un certo tempo, che avesse un costo energetico e che fosse limitata. Sebbene HashCash rappresentò una vera e propria innovazione nell'ambito delle prime valute digitali, uno dei problemi di cui il progetto soffriva era che HashCash poteva essere usata come una sola transazione. I partecipanti erano obbligati a creare nuove monete ogni volta che volevano fare transazioni. E sebbene l'idea era notevole, tutto ciò ha reso HashCash un progetto poco pratico. Furono tuttavia proprio le intuizioni di Adam Beck a dare là per la nascita di B-Money, considerato uno dei più importanti progenitori di Bitcoin, che venne elaborato dallo studente di scienze informatiche presso la Washington University, l'intraprendente Dai Wei. Nella soluzione proposta da Dai Wei, tutti i partecipanti mantengono copie separate dello stesso libro mastro, in cui sono scritte le transazioni tra i due vidi. E di volta che viene effettuata una nuova transazione, tutti aggiornano i propri record sul rispettivo libro. In questo modo è impedito a qualsiasi singola entità di bloccare le transazioni, offrendo in questo modo un livello di privacy e disintermediazione a tutti gli utenti. Concettualmente B-Money non è dissimile dal funzionamento della blockchain, un registro decentralizzato, totalmente disintermediato e non controllato da nessuna entità, che rende possibile l'esistenza di Bitcoin stesso. Tuttavia, come Dai ebbe modo di spiegare bene, B-Money non risolve il problema della doppia spesa. Alice avrebbe potuto inviare due unità B-Money, sia al B di Bob che al C di Carol contemporaneamente, trasmettendo queste transazioni a parti diverse della rete e sia Bob che Carol avrebbero potuto scoprire in seguito che metà della rete non avrebbe riconosciuto i loro equilibri. Davvero un bel problema. Sebbene B-Money fu ulteriormente sviluppato con la versione B-Money 2, questo progetto non venne mai realizzato, ma B-Money e Cash e Ash Cash gettarono le basi per la realizzazione dei successivi progetti, come R-Pove, Reusable Proof of Work, realizzato da Al Finney, che fu anche uno dei primi contributori di Bitcoin, ricevendo dallo stesso Satoshi la prima transazione della storia. Al Finney, scienziato ed attivista informatico, elaborò un'importante novità tecnologica chiamata R-Pove, capace di risolvere tra le altre cose il lennoso problema della doppia spesa. Per ultimo, ma non per ordine di importanza, lo stesso progetto Bitgold, proposto da Nick Zabo nel 1998, fu considerato uno dei primi tentativi di creare una valuta digitale decentralizzata. In questo senso ci sono molte somiglianze tra l'architettura di Bitcoin e la proposta di Bitgold, in particolare nei meccanismi tecnici utilizzati per elaborare le transazioni e proteggere la rete decentralizzata. Proprio per questo motivo, Bitgold spesso viene considerato il diretto precursore del protocollo Bitcoin di Satoshi now come out.